...questa avanzata, qualità per il capo d'olio, spette il palo, non cattivo, ma chiaramente tattico Paglioli, è il vantaggio di punizione fratelli, si vede. Una cosa del vero è cambiata, la pressione è leggermente più alto, 10-15 metri rispetto all'inizio, perché è un vantaggio, ha obbligato la comunità di questa via per il palicello. Quindi vediamo l'intervento, ci chiede Amiru Caparelli sul contatto, in questa situazione di campo, è la cartellina Zanetti, Luca. ...e aveva ragione, perché si tratta di anche la SPA, se vogliono dire, di fare 50-50, ma non c'è stato, ma è la cartellina, non c'è la parte. Paglioli, non cattivo, ma come sappiamo questo non è rilevante, quello che è rilevante è la posizione di campo, che c'era la SPA, cioè l'azione potenziale alle posizioni di Radellas. Grazie a Luca. E adesso, a campo di posizione, però, comunque, che c'è, questo sì, la posizione è molto interessante, ma a campo si è già disposta alla barriera bianconella. ...e chi è venuta, credo chi è venuta, però, vedo quella posizione. Una che ha fatto l'altro. Vediamo chi fa. ...verifica la posizione della barriera bianconella. Da chi è venuta la prova in Christine? Allora, proprio col mancino, la depiazione, all'ora che si alza e alla fine sarà sotto più a Cavana. Ha calciato un passo, voleva proprio andare su palo, no? ..V email oder oro. ...Occomanoto no idea, se non, dein frattbo. ...e professional che fa, passasse sopra la camino, invece no. c'è da incarciare non tanto il forte ma anche a farlo nel piatto di fare il livello come se lui forse coperta non venisse da fare la parte